Dopo il via libera dell'Agenzia Internazionale del Farmaco sui vaccini Novartis, la Lombardia aumenta la fornitura di anti-influenzali che dopo le sospensioni delle settimane scorse potrà superare le 167.000 dosi attualmente a disposizione, ovvero l'80% del fabbisogno totale della regione, che era stato calcolato in 200.000 dosi. Ma se l'emergenza appare superata, gli esperti ora sono preoccupati che dopo la rida di voci di questi mesi, i pazienti che ne avrebbero bisogno rinuncino a vaccinarsi. Già da una settimana 700 medici di famiglia che hanno aderito alla campagna somministrano il vaccino ai pazienti che lo hanno acquistato in farmacia, ma rispetto all'anno scorso ci sono meno richieste. Così nel primo giorno della campagna, che parte oggi in 20 ambulatori, il direttore della ASL Milano, Giorgio Ciconali, lancia un appello. Bisogna vaccinarsi subito, noi raccomandiamo a tutti di venire alla ASL e di farlo. La vaccinazione è raccomandata e gratuita per le persone a rischio, ovvero gli over 65 e i malati cronici, specialmente con patologie al fegato, ai regni e all'apparato respiratorio. All'appello della ASL, Faeco Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale, i blocchi disposti nelle ultime settimane spiega, hanno dimostrato che i controlli sono scrupolosi. Le dosi ora sono sicure, il consiglio è vaccinarsi, anche perché, aggiunge, quest'anno l'influenza potrebbe rivelarsi più vivace di quella dell'anno scorso, con ben tre varianti del virus. E se il picco influenzale è previsto per la fine dell'anno, già in questi giorni oltre 40.000 lombardi si sono messi a letto, 10.000 nella sola Milano. Però si tratta solo di avvisaglie, l'influenza vera e propria deve ancora arrivare e per vaccinarsi c'è tempo fino a dicembre.